Al via gli esami di maturità 2017 con la prima prova scritta, ossia il tema di italiano. Gli studenti ammessi all'esame di maturità, quasi 3000 nell'aretino, questa mattina hanno scelto tra diverse tipologie di temi. La poesia di Giorgio Caproni per l'analisi del testo, i decenni 50 e 60 per il tema storico, nuove tecnologie e lavoro, robotiche futuro nell'ambito scientifico, la natura tra arte ed ilio in arte e letteratura per il saggio breve artistico letterario ed infine disastri e ricostruzioni per l'ambito storico-politico. Alcune difficili, altre più carine diciamo. Quale traccia hai scelto e perché? L'ambito socio-economico perché era sulla tecnologia, quindi siccome faccio multimediale mi tornava meglio. Ho scelto la traccia di quello di ordine generale che coincideva col tema che avevo scelto per la tesina e che quindi consisteva nel fare una riflessione tra la differenza tra il progresso morale e il progresso materiale. È andato bene, per ora la prima prova è la più semplice, quindi il tema è Schall. La terza prova è quella che preoccupa. Quale traccia hai scelto? È il socio-economico, quindi perché ho letto un po' gli altri però mi ritrovavo meglio in quello. È andato molto bene, erano semplici le tracce. Ma insomma. Dai, sì. Quale traccia hai scelto e perché? Io ho scelto il tecnico scientifico perché mi sembrava quello più adatto a me. Il saggio breve perché diciamo uno di quelli più semplici secondo me. Cosa ne pensite di queste tracce? Eh, le tracce qualcuna mi ha messo in difficoltà, ad esempio come quella letteraria. È diciamo un pochino pesante, leggermente, dai, però temi abbastanza adattabili. Cosa ne pensate di queste tracce? Ve le aspettavate? Vi sono piaciute? Sì, diciamo che mi sono piaciute più delle simulazioni. E aspettarcelo? No, io non me lo aspettavo. Mi è piaciuto perché sono comunque cose che si fanno più a scuola e attuali comunque, sempre. La seconda prova scritta che varia per i diversi indirizzi di studio è prevista per domani, mentre il programma per lunedì 26 giugno è la terza prova.